Cari amici ben ritrovati, la depressione presente sull'Italia sta determinando precipitazioni abbondanti. Le zone più colpite sembrano essere la Sardegna ed il Piemonte, così come l'aria ionica. Tra domani e giovedì, a causa dell'indebolimento della depressione, assisteremo alla rimonta dell'alta pressione, che caratterizzerà il tempo di Natale. Ma vediamo cosa accadrà nella giornata odierna. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso su tutto il paese, con precipitazioni insistenti su Sardegna, Sicilia orientale, Calabria ionica e Piemonte. Circolazione ciclonica con prevalente ventilazione di scirocco. Sulla nostra provincia giornata caratterizzata da piogge temporali, con temperature massime registrate alle ore 13 di circa 17 gradi e minimi di 16 registrate questa notte alle ore 4. I venti saranno forti e soffieranno da sud-sud-est, con il mare nello stretto di Messina molto mosso. L'intensità solare più alta si registra dalle ore 14, con un valore UV di 0.1. Sul versante tirenico temporali e schiarite, le temperature si porteranno ai 18 gradi diurni e 14 nella notte. Venti moderati soffieranno da sud-est, con il mare tirreno mosso. Sul versante ionico temporali anche intensi, le temperature si manterranno sui 14 gradi le massime e minime di 13. Venti moderati soffieranno da sud-sud-est, con il mare ionio agitato. Nella giornata di mercoledì 21 dicembre pioggia ancora lungo il versante adriatico, rovesci sulla Sardegna schiarite sulle regioni tirreniche, attenuazione dei fenomeni anche altrove. Sulla nostra provincia invece è giornata caratterizzata ancora da piogge e anche abbondanti. Le temperature si porteranno ai 17 gradi le massime, previste alle ore 13, con minime di 15 alle ore 6. Venti moderati soffieranno da est-sud-est, con mari mosso il tirreno agitato allo ionio. L'intensità solare più alta si registrerà alle ore 11, con un valore UV di 1. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani.